ciao a tutti da paolo antonio tondi e buona domenica video 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 di tante novità la prima novità è chiusa qui dentro eccola qui ok dopo vi dico cos'è la seconda novità è un accordo tra la tvb shaving e il gruppo wet shaver review e donato ciniello extra cosmesi di cosa si tratta si tratta di un gruppo di acquisto come vi dicevo di questa cosa qua che dopo vi mostrerò riccardo donarini ciotolina con il nome qui vedete aron schecter che l'admin uno dei due admin nel gruppo wet shaver review e il kit sapone e after shave e special di extra è un altro sapone che poi insieme agli amministratori andremo a vedere quale sarà ma c'è un'altra novità questa è tutta mia è una mia creazione è zenith 506 saint ok quindi albino è un sintetico che poi vedrete è micidiale ma 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 eccolo qua personalizzato paolo antonio tondi ecco questo è una prova che io ho voluto fare appunto per vedere come come si poteva fare una personalizzazione di un pennello ma non è solo questo volendo si può anche personalizzare qui sotto eccolo qui paolo antonio tondi bene è il 506 vi farò vedere come funzionerà questo bellissimo pennello sintetico andiamo avanti io quella cosa lì non ve la faccio ancora vedere è una novità esclusiva quindi aspettate che vi farò vedere di cosa si tratta acqua caldo e adesso andiamo a prendere un po di sapone con il dito dito che sapone mio faccio ciò che voglio ma nessuno vi vieta di prendere un cucchiaino da caffè un cucchiaio un mestolo cioè potete prenderlo come volete l'importante su un sapone morbido non andarsi dentro quel pennello perché perché se è un sapone morbido prenderete una quantità incredibile di sapone ma andate anche a creare umidità al sapone per cui vi sconsiglio vivamente di andare con il pennello all'interno di un sapone morbido va bene allora detto questo ormai l'immancabile ciotola agm by rocco contini perché ormai è diventata veramente un must anche questa sottola qui vedete c'è funziona alla grandissima e iniziamo a caricare il pennello guardate gli acqua le special secondo me è migliore dopo tabacco dopo miele dopo o selvaggio barocco e sono tutti saponi di successo ecco qua guardate come lavora questa sottola cioè è stupenda bene 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 il sapone è montato bene un pochino d'acqua faccio vedere guardate guardate cosa come schiuma questo sapone ovviamente parliamo di un sapone artigianale vi rimando a un post fatto da armando ilis misasi il ripote va bene dove spiega in maniera dettagliata cos'è un sapone artigianale va bene a differenza di un sapone industriale bene io credo che il sapone sia sia pronto il pennello sia pronto tocca solo tocca solo esclusivamente svelare che rasoio andiamo a utilizzare ed eccolo qua il nuovo rasoio riccardo tonarini signori a voi kraken otto ottavi di lama leggo perché non ricordo le caratteristiche specifiche parliamo di una lunghezza totale della di tutto qui di 16 cm la larghezza della lama quindi questa di 8 cm e lo spessore della costa quindi questo 6 mm e mezzo parliamo di un rasoio custom manico in legno di olivo eccolo qua signori il kraken questa è la novità questo rasoio sarà oggetto di gruppo di acquisto del gruppo wet shell review sulla mia pagina poi troverete tutti i particolari per poterlo per poterlo prenotare quindi il gruppo di acquisto si comporrà di rasoio ciotola con il brand wet shell review e un kit del sapone di extro don donato bene vediamolo in funzione riccardo tonarini kraken eccolo qui vedete bene procediamo allora visto che parlavo mi si è soccato il tutto rimettiamo nuovamente acqua calda è la prima volta che lo uso perché è arrivato ieri mattina quindi non ho avuto il tempo di testarlo lo testo insieme a voi ok andiamo per chi possiede special sa già di cosa sto parlando di che profumazione perché non lo possiede consiglio di prenderlo perché è fantastico il pennello è incredibile morbidezza impressionante ormai zenith è una sicurezza sia sul tasso ma anche sul sintetico barba di tre giorni eccoci qua bene 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 procediamo con il kraken vediamo un po che succede a acciaio n690 ovviamente buona e ragazzi non ce n'è per nessuno è guardate guardate ok ragazzi ok ok La. Spietato, ma gentile e veramente di una dolcezza impressionante, come tutto l'acciaio ne sono avanti. In una facilità d'uso disarmata e ben bilanciato. Nonostante le dimensioni, veramente leggerissimo, bilanciato, anche perché devo dire la verità, c'è anche sempre la supervisione detto nella marca. Garantisce... ... 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 dopo la prima passata non c'è più nulla ecco fatto guardate cioè ha asportato l'impossibile bene 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 vediamo il contropello qui se volete aiutarvi appoggiatevi qui ma non fate pressione e su accompagnatelo bene bene quindi questo rasoio parte come gruppo di acquisto per il gruppo West Shave Review se lo volete acquistare insieme al kit che avete visto con la ciodolina con il vostro nome e punto interrogativo sto valutando di mettere anche il logo qui sul manico vediamo domani come mi risponderà la mia la mia serigrafia quindi stiamo dicendo chi lo vorrà bisogna prenotare sul gruppo West Shave Review quindi se non è iscritto si registra sul gruppo West Shave Review contatta gli amministratori e loro vi diranno tutto quello che c'è da sapere bene bene io avrei finito quindi di conseguenza avete visto come è un tagliaerba veramente è micidiale è un rasoio per tutti ecco questo mi preme dirlo è veramente per tutti anche chi si avvicina al mondo del mano libera per la prima volta lo può utilizzare perché è di una facilità disarmante acqua fredda ok bene bene ok a lume bene bene ottimo acqua di eucalipto del frigo extro anche questo prodotto molto rinfrescante ok piccola asciugatina e dopo barba come se piovesse è After Shave Edity impressionante buonissimo ecco fatto ricapitolando gruppo di acquisto esclusivo Wet Shave Review rasoio 8 ottavi Riccardo Tonarini Kraken 16 cm di lunghezza della lama 8 cm di larghezza della lama 6 mm e mezzo di spessore ok legno in olivo tutto completamente custom artigianale tutto ok io non non so che altro dirvi ah si la ciotolina la ciotolina con il brand Wet Shave Review è il nome di chi acquisterà il rasoio quindi chi parteciperà a questo gruppo di acquisto verrà data la ciotolina è il nome è il kit di extro che sarà sicuramente e special a grande richiesta perché è un sapone eccezionale e dopo con gli amministratori vedremo un attimino quale altra possibilità di scelta possiamo dare in base anche alla disponibilità di donato il pennello l'avete visto adesso ve lo faccio vedere con la mia personalizzazione personale eccola qui Paolo Antonio Tondi sia qui che qui ma qui si può richiedere eventualmente mi chiedete se volete il pennello personalizzato c'è un piccolo soplus ma piccolissimo e la ciotola AGM attenzione è ancora lì la schiuma è la crema quindi la ciotola AGM artigianale totalmente artigianale perché vedevo che questo qui cioè questa non è fatta a stampa è proprio fatta a mano e il manico questa robetta qui è attaccata cioè non è a stampo è fatta totalmente a mano e si vede si vede tutto quindi la ciotolina AGM by Rocco Contini io vi saluto vi auguro una buona domenica e al prossimo video ciao da Paolo Antonio Tondi Riccardo Tonnalini extrodonato Cigniello Rocco Contini e ciao a tutti ciao ciao a tutti ciao a tutti Grazie a tutti.